Buongiorno Davido, oggi vi voglio parlare di Dragonfly 1.0, una startup che promette di aver sviluppato un sostituto più veloce ed efficiente di Redis, il popolare database in memoria, usato da molti siti web e applicazioni. Ma facciamo un passo indietro e approfittiamo per ricordarci che cos'è Redis e da dove è partito. Anzi, l'italianissimo Redis. Redis significa Remote Dictionary Server ed è un progetto creato nel 2009 da Salvatore Sanfilippo, conosciuto come Antirez, uno sviluppatore italiano che cercava di migliorare la scalabilità della sua startup che si occupava di analizzare i log web in tempo reale. Sanfilippo si rese conto che i database tradizionali non erano adatti a gestire alcuni tipi di cariche di lavoro e decise quindi di creare un prototipo di un database in memoria usando il linguaggio TCL. Successivamente tradusse quel prototipo in C e implementò il primo tipo di dato, la lista. Dopo aver usato il progetto internamente con successo, Sanfilippo decise di rilasciarlo come open source annunciandolo su Hacker News. Il progetto abbia subito molto successo soprattutto nella community di Ruby e GitHub e Instagram furono tra le prime aziende ad adottarlo. Redis è un database che memorizza i dati in RAM invece che su disco, permettendo così di accedere ai dati molto più rapidamente e supporta diversi tipi di dati come le stringhe, le liste, gli insiemi e gli hash e offre anche funzionalità avanzate come la scadenza del dato, le transazioni e la replica. Redis è usato oggi da moltissime grandi web company come Twitter, GitHub appunto oppure Netflix per migliorare le prestazioni delle app. Tuttavia Redis ha anche dei difetti. Per esempio Redis consuma molta memoria per memorizzare i dati e le strutture interne e può soffrire di alta latenza nelle operazioni più complesse o quando deve gestire molti client contemporaneamente. E inoltre è single thread, quindi si può scalare solo orizzontalmente aggiungendo nodi. Ecco dove entra in gioco Dragonfly, che è un database in memoria compatibile con l'API di Redis ma che promette di essere il database più veloce al mondo. Troverete molta di questa comunicazione aggressiva sul sito di Dragonfly, nel senso anche di comparative estreme per dimostrare l'efficacia delle soluzioni della startup rispetto a Redis. E li capisco, visto che al momento si tratta di una competizione di Davide contro Golia e l'obiettivo è racimolare investitori e clienti. Allora, innanzitutto Dragonfly è multi-thread, quindi risolve uno dei principali problemi prestazionali di Redis permettendo di scalare verticalmente e questo gli consente anche di migliorare la stabilità delle transazioni sul database perché queste operazioni possono essere appunto suddivise tra più thread. Dragonfly utilizza una struttura innovativa chiamata Dash Table che è un'evoluzione di un algoritmo del 1979 chiamato Extensible Hashing per minimizzare l'overhead di memoria e la latenza delle operazioni. Non posso stare qui a spiegare come funzionano le Dash Table e vi lascio a questo proposito un link alla documentazione di Dragonfly per approfondire. Ma sappiate che la principale differenza con le Hash Table sta nei puntatori che in queste ultime sono LinkedList, mentre nelle Dash Table sono Segments, cioè in pratica delle Mini Hash Table. Inoltre Dragonfly utilizza anche tecniche di Bitpacking e Dance Set per comprimere i dati in memoria e questa architettura e queste tecniche, secondo i benchmark della startup, lo rendono in media il 30% più efficiente di Redis. Dragonfly non solo è compatibile con le API di Redis, ma anche con quelle di Memcached, un altro famoso database in memoria usato per il caching. Questo significa che gli sviluppatori possono usare Dragonfly al posto di Redis o Memcached senza dover cambiare il codice delle app. Basta sostituire l'indirizzo del server di Redis o di Memcached con quello del server di Dragonfly e il gioco è fatto. Dragonfly ha recentemente ricevuto un finanziamento di 21 milioni di dollari da parte di alcuni investitori importanti come Redpoint o Quiet Capital e ha quindi annunciato la versione 1.0 del suo prodotto che introduce il supporto alla replica primaria-secondaria, una funzionalità essenziale per garantire l'affidabilità e la scalabilità dei dati. Dragonfly si propone quindi come una nuova soluzione sul mercato per chi cerca un database in memoria, veloce ed efficiente, compatibile con gli standard esistenti, ma proiettato verso le esigenze future. Vi lascio naturalmente il link al sito ufficiale e qualche link alla news del round di finanziamento. E questo era tutto per oggi, grazie per aver ascoltato questo podcastissimo. Fatemi sapere cosa ne pensate di Dragonfly o le vostre horror stories con Redis. Peraltro, se volete approfondire un po' il personaggio di Salvatore Sanfilippo, vi consiglio di cercare la sua intervista sul podcast di Gitbar dell'amico Mauro. Peraltro, siccome mi ha confessato che ascolta questo buongiornissimo la sera, allora a te e tutti quelli che stanno ascoltando dopo il calare del sole, buonanotte e ci vediamo alla prossima. Ciao!